I carabinieri della stazione di Napoli, Chiaia, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura, hanno arrestato 11 persone, 9 italiani, un romeno e un georgiano, gravemente indiziati da associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati in abitazione, commessi tra il 2015 e il 2016. L'attività di indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Rosa Volpe e dal sostituto Sergio Amato, iniziò nel dicembre del 2015, quando una banda di criminali, la notte tra il 7 e l'8 dicembre, si introdusse nella sede di una società di ormeggi in via Caracciolo e portò via 250.000 euro in contante, destinate alle busse paga dei dipendenti. Le indagini, inizialmente concentrate su un dipendente infedele, hanno costituito il punto di partenza per delineare la presenza di un'associazione delinquere di soggetti dedita alla commissione di furti in abitazione. Il loro metodo era questo. Prima facevano il sopralluogo e se alla prima e alla seconda bussata non rispondeva nessuno, si organizzavano per entrare la notte stesso e il giorno seguente. Alla banda vengono contestati 10 furti in abitazione consumati o tentati a Napoli, a San Sebastiano Alvesuvio, Ercolano, Bosco Trecase, a Casoria. Per 4 arrestati è stato disposto il carcere, per 4 gli arresti domiciliari, per 3 l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.